Siamo qui al Pisa Book Festival, noi siamo di ISBN, io sono Linda, lavoro in redazione. ISBN Edizione è una casa editrice nata nel 2005 e fondata da Massimo Coppola. Ci occupiamo soprattutto di narrativa e cultura pop, cercando di mischiare appunto la cultura popolare a contenuti più alti. Vi presento alcune delle nostre nuove uscite. C'è Player One, che è il nostro ultimo special book, che è una collana di libri picchissimi che abbiamo inventato un anno e mezzo fa. E questo è il decimo, con panetto. Ed è un libro ambientato in una realtà virtuale all'interno di un videogioco. Un videogioco che però è ispirato agli anni Ottanta e quindi ci sono un sacco di riferimenti alla cultura pop degli anni Ottanta, da Blade Runner a Wargames, a Guerre dei Stellari, a Ritorno al Futuro. Quindi insomma, per quelli della mia generazione o anche un po' più vecchi, è un libro divertentissimo e super appassionante. Un'altra cosa molto bella che abbiamo appena pubblicato è il libro di un diciottenne inglese, che si chiama Ben Brooks, il libro si chiama Le nostre luci. Ed è un po' un ritratto veritiero della generazione odierna, quella degli adolescenti anche 15 anni inglesi e poi però anche universabile, insomma, universalizzabile agli adolescenti italiani anche, che spiega un po' la vacuità di quel tipo di generazione. Però è molto bella.